Questa è una... Buongiorno signora, mamma mia! La signora fa le cose a capocchie, questa è una delle creazioni più strane che abbia visto della signora, cioè fa la sua bambola di pane. Io ho dato una sbirciata alla fila... Eh, si gira. Eh, signora, allora, noi vogliamo vedere questa creazione... Allora, innanzitutto ha fatto quattro corsie qua, quattro clave. Queste sono cresciute, signori. Eh, queste sono le mazze di Negan, proprio da The Walking Dead, eh, ci mancano solo... Sì, ma non sono... Cioè, una parte più secca, una più grande, come... Eh, se ne sta accendendo la voce, solo a guardare. Treccia a capocchia. Treccia a capocchia. Prima. Ma è un quadro di Vassili Kandischi, questo qua, cioè, è proprio arte contemporanea. Prima a crescere. Arte modello. E poi sto intrecciando. Eh, come viene, signori. Eh, come viene, eh, insomma, non proprio lineare. Lo devi fare prima e non fa nulla. Ma lei ha ragione, signora, quella lei è una filosofa, perché il mondo è del caos, no? Il mondo è... Quindi le cose lineare... Eh, lo so, signori. Io non copio, signori. Anche come mi viene così voglio fare. Eh, certo. Sembrate mia suocera, signora. Non copiate, scorrete. Non copiate, scorriamo, signori. Sapete che fa mia suocera? Io facciamo gli struffoli insieme, che sono delle cose tipo gli gnocchi. Il primo struffolo è un millime, un micron. L'ultimo struffolo è un ballone da calcio, perché si è scocciata, si è... E le fa grazie. Lei mi ricorda un po' che, diciamo, questa... Questo modo di fare, ecco. Non proprio lineare. Fa una cosa, fin quando le piace. Se no poi passa avanti. Sembra che si è strozzata quella treccia là. Ma poi la cosa bella è che, alla fine, voi fate questa... Cioè, lei fa questa cosa... Amici? Questa bambola. Guardate qua. Io ho dato una sbirciata, veramente... Andate, signora. Signore, fateci vedere, signora. L'arte è come creare una bambola voodoo col pane. Questo è il tutorial. Che ci sono... Eccola. La prima. Vabbè, questa, signora, no. Questa è quest'altra che fa la bambola, signora. Vediamo quest'altra, signori. Che invenzione fa mamma mia stamattina? Eh, eccola qua, eccola qua. Stamattina mi sono preparato con la pasta e voglio fare una cosa. Facciamo un piccolo bambino. Una piccola bambina? Avete visto? Fa la bambola. Eh, che cos'è? La testa? Che rego è questa, signora? Sta partendo dalla testa? Il corpo? Vediamo cosa ne viene fuori, signore. Eh, signore, ma sta scritta qua. Non va bene. O la mette sopra, sopra, sotto, sotto. Cioè, va bene. Ecco. Vabbè. Mamma mia. Cioè, signore, queste... Mi piaccio, no. Guardate. Guardate, vedete cosa è che mi fa. Mamma mia, signora. E spavendoso. Cioè, queste potrebbero essere protagoniste di... Un nuovo film di Dario Argento. La bambola panassina, signora, questa è. Perché è un po' fa un po'... Cioè, guardate quelle... Cioè, sono tentacoli, signore, ce l'ha fatta. Non sono braccia, queste qua. Mamma mia, signora. Mamma mia, mamma mia. Eh, giustamente, la signora... Ma, ma se questo è un colpo... Signore, siete forti. La signora ha capocchio, è troppo forte. La bambola col pane. Ma ci facciamo i capelli. Sì, ma poi voglio... Eh, brava, brava, signore. Fatti le trecce... Eh, 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 esatto. Io poi vogliamo... Noi vogliamo vedere il risultato finale, signore. Sai com'è bello questo? Eh, la bocca. E qua è il naso. Così puoi dire tante parole. È il naso. Fate... Meglio di così. No, meglio di così. Non può vedere. Ma neanche Cedric Rolet, cioè, proprio, va a siccere migliore al mondo. Cioè... Eh, beh, amputate, amputate le mani, ecco, di pasta. Adesso mettiamo in forno. Eh, mettiamo in forno. Vediamo cosa esce di questo pupazzo. Certo, più pazzo che pubero. Perché questa era... Vediamo in cottura, com'è? Mamma mia! Il panorror! Panassina, signora! Grazie a tutti.